Ciao a tutti, sono Samuel Aperti e sono fotografo e filmmaker. Oggi vi voglio parlare di lenti vintage, ma con un uso cinematico, perciò cinemolded in gergo. In particolare parliamo delle mie Super Takumar Asai. Questo è il mio kit, messo in una valigetta Max, una delle più economiche, penso di averla pagata da 50-60€, vedrò di lasciarvela qua sotto in descrizione. Io personalmente ho optato per questo range di focali. Sono tutte focali fisse e vanno dal 28, 35, 50, 105 e 135 mm. La mia focale preferita è il 35 mm. Originariamente questa lente ha un attacco M42 a vite. Adesso ve lo faccio vedere. Voilà. Ho comprato adattatori per tutte le mie lenti e l'ho trasformata in EF Mount. Dopodiché ho fatto stampare in 3D il Focus Rig per essere più comodo, anche a mano libera, per avere una presa migliore o per quando utilizzo il follow focus o un motorino remoto che l'ingranaggio aderisce perfettamente. Dopodiché ho applicato uno step-up ring da, in questo caso, da 49 a 77 mm, perché i miei filtri sono 77 mm. In questo modo copro con i miei filtri tutte le lenti di questo set. E infine un hood, un piccolo tappo. Questo qui è un super multicoded Takumar. Tutte le lenti sono super multicoded, perché ci sono diverse annate e diverse tipologie di coded, che sarebbe la pellicola, il trattamento che hanno le lenti. L'unica che è super Takumar e non è multicoded è il 50. Scusate, questo è il 100. L'unica è il 50, che è solo super Takumar. Il 50 è F1.4 e ho applicato, come ho già detto, lo step-up ring, l'ingranaggio di messa a fuoco e l'anello adattatore A e F-mount. Di fila abbiamo 28 mm, Super Takumar multicoded, il 28 mm è un F35, 35 mm Super multicoded F2, Dopo passiamo al 50, che è un super Takumar, non è multicoded, perciò ha un trattamento diverso, è un pochino più giallo. E questo è un F1.4. 105 mm Super multicoded F2.8, Perfetta per i ritratti. La lente più lunga è il 135 mm, non pensavo di usarla così tanto, invece mi ritrovo a usarla parecchio. Anche questa è un Super multicoded, ed è un F3.5. Una lente lunga, però come tutte le altre, appunto ha il step-up rig 77 mm, l'ingranaggio di messa a fuoco e l'adattatore A e F. Guardiamole tutte assieme, facciamo uno screenshot. Prendiamo il 35 mm. Allora, perché consiglio un setup del genere? Allora, innanzitutto, le Takumar SMC Super multicoded hanno un look che io amo. hanno dei difetti che, secondo me, diventano dei pregi quando si vogliono fare dei video più narrativi, che raccontano, per esempio, un video musicale, un cortometraggio, anche delle scene di una pubblicità. Sicuramente non sono adatte a progetti più clinici. Per clinico intendo magari un video di un prodotto, o laddove si vuole ottenere l'immagine molto tagliente, molto definita, pulita e senza difetti. Queste non sono le lenti per voi. A meno, non sono le lenti per quel progetto. Questo, come potrebbe essere anche un kit di Nikon IS, quelle vintage, tutte in metallo. Queste sono tutte in metallo, non ci sono parti in plastica, sono fatte di metallo e vetro. E' uguale le Nikon IS, o se no, le Canon FD. Sono tutte lenti vintage, che possono essere moddate e avere una comodità sul set non indifferente. Appunto per lo step-up ring, così abbiamo tutti i filtri della stessa dimensione, l'ingranaggio per la messa a fuoco e avere, chiaramente, adattare il mount in base a quello che si usa. In questo caso, io l'ho adattata a F-mount, in modo che posso poi utilizzarle su una vastità di camere, con altri adattatori, o se no, su camere che usano a mount F. La ghiera della messa a fuoco è morbidissima su tutto il set e molto precisa. Chiaramente la differenza tra una lente cinema e questa, che è la lente cinema, ha la ghiera, appunto, della messa a fuoco, molto più lunga. Quindi, per un video piccolo, dove c'è magari un videomaker, un filmmaker che lavora da solo, one man band, secondo me è più indicato una lente del genere, perché comunque sia, per andare da infinito alla messa a fuoco minima, non è troppo lunga. Chiaramente le lenticine hanno una ghiera così lunga per essere più precisi, ma quando si è da soli è quasi più scomodo avere una ghiera così lunga, perché non abbiamo un focus puller e via dicendo. Quindi, non lo trovo un punto a svantaggio per questi progetti più piccolini. Anche se la qualità ottica, secondo me, è molto alta. Chiaramente non sono, sono un po' impastate, non sono super nitide, ma sono da provare. In descrizione vi lascio qualche video che ho fatto con queste lenti, in modo che voi potete giudicare da voi se vi piacciono o no. Secondo me, associate a camera digitali come la Pocket 6K, la Ursa 12K, la Nikon Z8, che comunque hanno tanti milioni di pixel, il risultato è piacevole, è molto piacevole, perché risulta un'immagine molto organica, non così tagliente e nitida come le lenti moderne, ma molto organica. Chiaramente non è una lentecine, questa ha un modding basilare. Chiaramente ci sono delle aziende che fanno il rehousing, trasformano le lenti fotografiche in lenticine, in modo per avere la messa a fuoco, il ring della messa a fuoco sempre alla stessa altezza, il diaframma uguale, tutte le lenti grandi nello stesso modo, e il step-up ring, non c'è più lo step-up ring, c'è proprio la lente con il filter thread, tutte dello stesso diametro. Questa qui è una soluzione economica, ma che funziona molto bene. La differenza tra la lenticina e questa, chiaramente, che le lenticine sono, in questo caso, dal 28 al 100, al 135, sono tutte grandi uguali, con la distanza della ghiera della messa a fuoco allineata e la distanza tra la fine della lente e la ghiera e l'inizio e la ghiera del diaframma allineata e la dimensione delle lenti è uguale e anche il peso, quindi quando si cambia la lente dal gimbal o anche solo dal cavalletto che è bilanciato in un certo modo, quando si va a cambiare la lente il cavalletto, la testa mobile del cavalletto rimane bilanciata. Ha una serie di vantaggi non indifferente, però queste sono un bel giocattolino che vi consiglio, spero che sia stato utile e spero che sia anche di stimolo perché almeno da parte mia il mio lavoro è la mia passione, è il mio hobby e lo amo. Ogni volta che compro una lente vintage o anche una lente non vintage o qualcosa di nuovo con cui giocare, testare, provare, usare sul lavoro, per me è un piccolo stimolo per fare di più, per fare sempre meglio e spero che lo sia anche per voi. Ciao, alla prossima!